laudentur jesus maria amici ben tornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai libri sapienziali ci troviamo all'interno del libro della sapienza di cui abbiamo fatto l'introduzione diciamo l'analisi tematica la volta puntata precedente e abbiamo anche letto più che i brani scelti che sono indicati nella slide che si vede insomma impressione perché abbiamo anche ampliato un pochino la lettura ci restano alcuni brani molto belli che a dio piacendo leggeremo oggi speriamo di riuscire a farli tutti senza allungare troppi preamboli che sono il numero prima la sapienza si può trovare capitolo 6 dal versetto 12 al 21 salomone cerca trova la sapienza capitolo 7 dal versetto 7 al 14 i 21 attributi della sapienza 7 22 30 sposare la sapienza bello è 8 11 preghiera per ottenere la sapienza capitolo 9 stupenda e infine la conoscenza naturale di dio un brano molto importante anche perché insieme ad un parallelo della lettere romani è stata diciamo la base vottrinale per il dogma per il dogma sì per l'articolo di fede formulato nella costituzione dei filius del concilio vaticano primo allora direi di non esagerare con appunto i preamboli fatta questa introduzione cambio slide cambio sovrimpressione meglio ecco andiamo a vedere i brani biblici e riprendiamo quindi la lettura da dove ci siamo più o meno fermati cominciando dal 6 12 21 vedete come significativamente la 6 2008 riporta il titolo di questa sezione come la ricerca della sapienza ora 6 12 21 lo leggiamo e poi diremo qualcosa la sapienza radiosa e indefettibile facilmente è contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca previene per farsi conoscere quanti la desiderano chi si leva per essa di buon mattino non faticherà la troverà seduta alla sua porta riflettere su di essa è perfezione di saggezza chi veglia per lei sarà presto senza affanni essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei appare loro ben disposta per le strade valore incontro con ogni benevolenza suo principio assai sincero è il desiderio di istruzione la cura dell'istruzione è amore l'amore è osservanza delle sue leggi e il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità e l'immortalità fa stare vicino a dio dunque il desiderio della sapienza conduce al regno se dunque sovrani dei popoli vi direttate di trono di scettri onorate la sapienza perché possiate regnare sempre io ho già detto insomma che sono innamorato di questo libro ci sono dei passaggi veramente meravigliosi allora la sapienza è radiosa in greco è lamprà brillante è indefettibile alfa privativo e maraino amarantos amarantos estin il 2008 traduce con non sfiorisce buona traduzione ecco ci sono alcune cose che sono migliori nella traduzione del 2008 altre nella 2000 e nel 1974 facilmente è contemplata da coloro che la amano trovata da chiunque la ricerca oh cerchi la sapienza la troverai ma qui abbiamo un prodromo delle massime di nostro signore nel Vangelo chi chiede ottiene chi cerca trova a chi bussa sarà aperto chi cerca cosa la sapienza vogliamo dire la verità diciamo la verità tanto è la stessa cosa e attenzione facilmente è contemplata da coloro che la amano il verbo contemplare è molto bello è è teorein quindi teoreitai teoreo da cui viene anche teoria in italiano è appunto il guardare con attenzione l'osservare quindi non è tanto difficile basta cercarla e basta amarla peraltro il testo prosegue lei stessa previene per farsi conoscere quanti la desiderano quindi ci precede chi si leva riflettere su di essa e attenzione oltre che chi veglia per lei sarà presso senza affanni bisogna ricordare che lei stessa va in cerca di quanti sono degni di lei e appare loro ben disposta per le strade valore incontro con ogni benevolenza non c'è tanto da commentare amici veramente vedete quanto è chiaro questo libro però qui adesso qui c'è una sequenza veramente spettacolare allora il principio della sapienza dice voglio vorrei diventare sapiente Don Leonardo che facciamo qui ascoltiamo quello che dice l'iter suo principio a sé sincero è il desiderio di istruzione il desiderio di istruzione quindi per esempio ovviamente non voglio far cicero protomo suona però chi sta ascoltando questa catechesi qualcosa la sta facendo no? cioè questa è una catechesi biblica quindi tra l'altro sarà anche un pochino lunghetta immagino chi si sente la diretta fino alla fine oppure chi poi si troverà un video su youtube o un podcast di un'ora insomma un'ora è tanta roba io lo capisco benissimo per questo che mando anche online tutti i giorni le omelie feriali da 5-6 minuti perché chi non ce l'ha lo stomaco per resistere un'ora anzi a proposito lanciamo un upload di quella di oggi chi non c'ha lo stomaco di di resistere così a lungo almeno ha qualcosa di cui nutrizi però è chiaro che senza l'istruzione la sapienza non arriva perché la cura dell'istruzione è amore cioè istruzione potremmo parafrasare questo linguaggio con la propria formazione la stessa cosa cioè è amore a chi tra l'altro è amore alla sapienza sì ma è amore anche a se stessi guardate che noi abbiamo un amore santo da coltivare verso noi stessi che è l'amore della nostra anima amerai il prossimo tuo come te stesso l'amore proprio non va bene è una cosa da combattere ma l'amore santo di sé va benissimo tu la tua anima la devi nutrire la nostra anima è stata fatta per fondersi per sposarsi vedremo con la sapienza quindi il desiderio di istruzione è amore poi l'amore è osservanza delle leggi delle sue leggi se mi amate osserverete i miei comandamenti dice la sapienza increata fatta carne perché guardate che la sapienza increata è il logos il verbo qui si parla di lui quando si parla della sapienza e il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità chi è immortalità in che senso la nostra anima è immortale immortalità è accesso alla vita eterna oh qui bisogna sempre ricordarlo ogni tanto perché oggi c'è un po' c'è un po' il pericolo di scordarlo che in paradiso ci fa che osserva la legge di Dio ordinariamente po' che qualcuno si possa per qualche preghiera o penitenza di qualcuno o qualche mezzo miracolo salvarsi per il rotto della cuffia questo è sempre possibile grazie a Dio ma ordinariamente in paradiso ci fa che osservare la legge di Dio non chi la carpesta infatti rispetto delle leggi garanzia di immortalità meglio vedete traduce la 2008 di incorruttibilità perché il termine è aftarsias che significa anche immortalità ma l'immortalità nel senso dell'incorruttibilità la corruzione certamente non entra in paradiso mentre ci sta all'inferno dove comunque all'inferno ci vanno le anime dannate che sono in se stessi immortali no quindi l'immortalità come la non soggezione alla morte è caratteristica della nostra anima non ce la toglie nessuno ma l'incorruttibilità no e l'incorruttibilità fa stare vicino a Dio stare in paradiso e quindi detto in soldoni il desiderio della sapienza conduce al regno ti porta in paradiso tanto per essere proprio e questo è un invito risolto rivolto anzitutto ai sovrani questa è la sezione un po' dei re no ecco e quindi andiamo a vedere chi è un grande sovrano che oggi tra l'altro perché è stata ammessa oggi ma oggi c'era proprio l'episodio mitico storico no Salomone che va voglio dire la regina di Sabba che va a trovare l'autore del libro della sapienza quello che adesso ci dirà quanto la bramata è cercata e Salomone fa uno sciofa nel senso che lascia la regina di Sabba senza parole non solo per quello che dice ma anche per tutto quello che questa donna vede osserva addirittura le divise degli ufficiali quindi la bellezza del palazzo la delicatezza e la raffinatezza dei cibi tutte queste bellissime cose ora andiamo a vedere questo spettacolo Sapienza 7714 allora per questo questo è uno dei passi a me preferiti forse di tutta la sacra scrittura per questo pregare mi fu erargita la prudenza la fronesis in greco implorai e venne me lo spirito della sapienza pneuma sopias la preferia scettri a troni stima io nulla la ricchezza al suo confronto attenzione che questo Salomone non è che qui chiacchiera perché Salomone questo l'ha dimostrato perché non dimentichiamo che nel libro del secondo libro si legge che Salomone ha avuto quello che molti desiderano proprio l'occasione della sua vita il nostro signore dice senti un po' mi è venuta voglia di esaudire un tuo desiderio dimmi un po' che cosa vuoi e che cosa chiede Salomone dammi la sapienza per governare rettamente il tuo popolo ah il signore ne rimane come dire edificato quasi no lusingato sembra quasi di vedere quando Gesù fece quell'esultanza ti benedico padre signore del cielo e della terra che hai nascosto queste cose piccoli no ai dotti e gli intelligenti e le rivelate piccole e gli umili no Dio rimane ammirato ah ma hai chiesto la sapienza allora siccome tu non mi hai chiesto i soldi non mi hai chiesto la prosperità non mi hai chiesto le donne non mi hai chiesto la pace insieme alla sapienza ti do tutto quello che non mi hai chiesto e così è stato e così è stato quindi la preferia scelta i attronisti ma nulla la ricchezza al suo confronto lui l'ha dimostrato tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia come fango sarà valutato di fronte ad essere l'argento è la verità questa qui figlione la gente stolta che va presso i soldi e beni e materiali è stolta è il contrario che è sapiente stupida perché la sapienza ti porta in cielo e i soldi e le ricchezze presto o tardi finiranno non te li porti dall'altra parte poi la mai più della salute e della bellezza addirittura meglio la salute o meglio la sapienza meglio la bellezza o meglio la sapienza e poi versetto 11 insieme con essa mi sono venuti tutti i beni nelle sue mani una ricchezza incalcolabile questa è parola di Dio figlioli miei cari è chiaro che poi seguendo le forme di nostro signore uno può anche fare che gli vengono tutti quanti questi beni e poi li lascia per spirito di immolazione per seguire il nostro signore Gesù Cristo come diceva San Francesco povero il crocifisso questo è sempre possibile ma di per sé insieme con la sapienza i beni ti vengono tutti 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 perché se uno fa come Salomone che anche non avendo la possibilità come dire di vedersi esaudito in diretta dall'altissimo un suo desiderio però desidera con tutto il cuore più di ogni altra cosa la sapienza insieme con essa avrà certamente tutti i beni e quindi cerca e trova la la sapienza e dice godetti di tutti questi beni perché la sapienza li guida ma ignoravo che di tutti essa è madre addirittura di tutti i beni e guardate che Salomone andiamo a rileggere la prima lettura di oggi palazzo magnifico ricchezze a non finire cucina di prima categoria vesti sontuose ha costruito il tempio di Gerusalemme che era una delle sette meraviglie della della terra un servizio liturgico perfetto impeccabile uno splendore infinito e dice esse è un tesoro inesauribile per gli uomini tesaurosi in greco aneklipes ogni volta che vedete questa letterina l'alfa questo è l'alfa privativo quindi inestinguibile inesauribile è un è un è un negativo no aneklipes e quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio si diventa amici di Dio e si è a lui raccomandati tanta roba allora andiamo avanti poco dopo quindi facendo soltanto un piccolo jump si vedono i 21 attributi della sapienza in essa c'è uno spirito intelligente santo unico molteplice sottile mobile penetrante senza macchia terzo inoffensivo amante del bene acuto libero benefico amico dell'uomo stabile sicuro senza affanni onnipotente onniveggente che per vale tutti gli spiriti intelligenti pure sottilissimi ecco queste cose sono state copiate hanno fatto copia e incolla gli stoici perché il famoso inno di cleante no stoici scusate i neoplatonici il famoso inno di cleante copia gran parte di questi attributi che sono 21 non può essere un caso perché 21 è 3 per 7 quindi 3 è il numero di Dio e 7 è il numero della perfezione non si possono approfondire è innanzitutto uno spirito intelligente ecco nell'omelia che ho fatto stasera c'era proprio il contrasto tra la sapienza di Salomone adesso non vorrei rifare un po' in breve l'omelia c'era il contrasto tra la sapienza di Salomone e invece la 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 stupidaggine la stupidità di quelli che che non sono buoni a capire anche le le più piccole cose no? le più piccole le ovvietà cioè che non è quello che entra dentro l'uomo a contaminarlo ma quello che esce dal cuore dell'uomo a contaminarlo ovvio dovrebbe essere ecco e Gesù dice siete anche voi così privi di intelligenza non ci arrivate quindi intelligenza anzitutto santità bellissimo no? uno spirito intelligente in greco è noiron noiron viene da nus nus è proprio il termine greco che designa l'intelletto agios è senza terra è santo e poi questi sono attributi un po' che fanno capire quanto la sapienza è capace di ecco per esempio sottile dun scoto venire chiamato il doctor sottilis sottilis perché si intende non la sottigliezza come sottigliezza fisica di un qualcosa no? ma quindi la capacità di lacuma intellettuale così anche mobile penetrante no? quindi che sa penetrare in fondo ai problemi senza macchia la sapienza non ha niente dicono i padri della chiesa se vuoi andare al polo opposto della sapienza macchiati con l'impurità cioè se tu stai proprio tranquillo se vuoi essere sicuro di non avere niente a che fare con la sapienza e se vuoi proprio starne al di fuori vita natural durante continua a rimanere invischiato in qualche cosa che ha a che fare col peccato impuro perché con quello la sapienza è completamente bandita impossibile poi è uno spirito inoffensivo ecco noi dobbiamo per esempio stare sempre molto molto attenti volendo anche un pochino imitare a non offendere mai nessuno dobbiamo dobbiamo sforzarci di farlo l'offendere è sempre una cosa sbagliata il difendere la verità è sempre una cosa giusta ma questo bisogna farlo sempre in maniera da non offendere nessuno offendere ovviamente a livello oggettivo senza mancare la carità amante del bene e poi acuto e poi attenzione amico dell'uomo libero un altro grande attributo della della sapienza libero la persona sapiente è libera libera da tutto e da tutti quindi cioè libero da condizionamenti libero dalla volontà di compiacere gli uomini libero dalle schiavitù e dalle idolatrie poi chi più ne ha la mente più la metà la santa libertà dei figli di Dio e poi è stabile la sapienza San Paolo dice non dobbiamo essere più come onde sballottate o come bande ruole la sapienza ti rende stabile sicuro nella verità e poi senza affanni senza affanni si può tradurre anche tranquillo e poi onnipotente panto di una mon non ci crediamo ma l'ha detto Gesù questo qui tutto è possibile per chi crede chi crede in me compierà le opere che io compio e ne farà di più grandi per chi va dal padre poi onniveggente panepiscopon bellissima cosa proprio no? vedete il vescovo l'episcopos episcopos viene da epischeptomai cioè che proprio guardare è la sentinella è il vigilante quindi è è quello che controlla la sapienza controlla tutto vede tutto e che pervade tutti gli spiriti intelligenti pure e sottilissimi è un'emanazione della potenza di Dio dice il versetto 25 un effluvio genuino della gloria dell'onipotente è di nuovo per questo nulla di contaminato in esso si infiltra è un riflesso della luce perenne incommentabili queste cose per quanto sono belle uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e un'immagine della sua bontà e che cosa fa la sapienza pur rimanendo in se stessa tutto rinnova e attraverso l'età entrando nelle anime sante forma amici di Dio e profeti nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza e se in realtà è più bella del sole supera ogni costitazione di asteri paragonata alla luce risulta superiore perché a questa infatti succede la notte ma contro la sapienza la malvagità non può prevalere attenzione nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza neminem ad esempio la vulgata è bellissima neminem enim dirige deus nisi eum quicum sapientia inabitat uten in greco garagapauteos emeton sofia siunoicunta bellissimo proprio il se non chi vive insieme con con la sapienza siunoicunta no oikos in greco significa la casa no quindi chi vive nella stessa casa letteralmente siun significa con oikos bellissimo e contro la sapienza la malvagità non può prevalere quindi attenzione che vedete che quando Gesù per esempio nel Vangelo di San Matteo parlando a Pietro e al suo primato dice le porte degli inferi non prevarranno perché lo dice in conseguenza del primato e il primato di Pietro gli viene conferito perché perché riconosce in Gesù Cristo il figlio di Dio quindi se tu stai radicato nella verità e riconosci che Gesù è il figlio di Dio contro la sapienza la malvagità non può prevalere è impossibile come fa a prenderti col peccato con la tentazione è impossibile non si cadrà mai non si commetterà mai se uno è sapiente un peccato ad occhi aperti con il terrorismo con il terrore assolutamente no andiamo a vedere un altro passaggio molto molto edificante sposare la sapienza qui Salomone diventa veramente commovente no questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza ho cercato di prendermela come sposa mi sono innamorato della sua bellezza ragazzi qui io auguro a tutti a tutti coloro che ascoltano di poter vivere una cosa del genere sapete che la la filosofia che è fatta bene è una cosa meravigliosa il grande San Tommaso d'Aquino prima che essere un grande teologo era un grande filosofo adesso i filosofastri che girano adesso in giro una delle tante decadenze contemporanee che è un altro segno dei tempi insieme alla decadenza dell'arte alla decadenza della cultura alla degradazione dei costumi è che ma che c'è qualche filosofia in giro adesso ma per favore insomma no a partire dal novecento la fenomenologia l'esistenzialismo con le varianti di Heidegger da un lato e con la variante nichilista di Jean-Paul Sartre ma che cos'è sta roba qui va poveri noi la filosofia nasce proprio come ricerca e come amore della della sapienza come il percorso dell'uomo che si interroga si fa alcune domande si chiede alcuni perché a Dio non si chiedono i perché però alcuni perché noi dobbiamo chiederceli perché c'è qualcosa anziché il nulla perché ci sto io qui sul pianeta terra perché c'è il male perché c'è la morte e questo è questo è essere sapienti la stragrande maggioranza degli esseri umani sono stolti però avete visto che la sapienza la partenza della sapienza è l'intelligenza è cominciare a far funzionare il cervello come ho intitolato prima al volo l'omelia di oggi far funzionare il cervello non è un'attività tanto semplice perché la stragrande maggioranza degli esseri umani il cervello non lo fa funzionare e io faccio sempre un grande diciamo che ritengo molto utile richiamare i tempi che stiamo vivendo e quello che abbiamo vissuto il tempo che stiamo vivendo richiede l'uso del cervello richiede una grande sapienza un grande spirito di discernimento una grande prudenza così come quello che c'è stato nella cosiddetta pandemia e crisi conseguente innamorati della sua bellezza Dio lo vede questo qui quando una persona è desiderosa è desiderosa di di conoscere di di sapere ma non per quella stupida brama di di curiosità perché la sapienza continua nel versetto 3 manifesta la sua nobiltà in comunione di vita con Dio tu diventi l'amico di Dio diventi un familiare dell'altissimo non solo essere iniziata alla scienza di Dio e sceglie le opere sue iniziata alla scienza di Dio sapete che ci sono tutte quante le discipline le dottrine esoteriche si chiamano così no che hanno dei misteriosi segreti percorsi di iniziazione ecco via da questa roba qui mi raccomando a noi ci interessa la sapienza che è iniziata già la scienza di Dio scienza di Dio vuol dire conoscerlo ma noi siamo stati creati per questo figlio l'inicare l'immortale catechismo di San Pio X perché perché ci ha creati Dio per conoscerlo anzitutto e quindi amarlo e quindi servirlo in questa vita e poi goderlo e amarlo ancora di più nell'altra io a volte mi chiedo come come fanno gli esseri umani a condurre una vita così grigia così brutta mi chiedo sempre una persona che non ha nella vita fatto l'unica cosa importante che c'è da fare che è appunto conoscere Dio cercare la sapienza innamorarsi di lei metterla al primo posto ma tu arrivi al termine della vita sei morto e che caspire e che sei campato a fare e che hai combinato che hai fatto orrore proprio o no mi sbaglio no spero di no non credo no dice se la ricchezza è un bene versetto 5 desiderabile in vita la ricchezza è un bene ma non mi con male ma quale ricchezza è più grande della sapienza la quale tutto produce anche la ricchezza materiale nessuno è più ricco di chi è sapiente e poi se l'intelligenza opera ma chi tra gli esseri più artefici di essa sono le persone intelligenti ad operare grandi cose e poi un'altra cosa molto molto bella molto importante se uno ama la giustizia se uno ama la giustizia le virtù sono il frutto delle sue fatiche e la sabienza che cosa gli insegna che cosa gli insegna la sabienza le quattro virtù cardinali la riempiranza la prudenza la giustizia e la fortezza delle quali nulla è più umittile agli uomini nella vita sta per uscire facciamo un consiglio per gli acquisti meglio uscirà tra un mesetto che la revisione è abbastanza complessa proprio oggi ho ricontrollato le virtù morali è iniziata la revisione delle virtù teologali poi ci sono anche quelle cardinali che sono da vivere una più bella e più importante dell'altra la temperanza la prudenza la giustizia è la fortezza le quattro virtù cardinali vedete come sono nominate esplicitamente qui ma se uno desidera un'esperienza molteplici essa conosce le cose passate è proprio della sapienza rimanere proprio ancorati saldamente a quelle che si chiamano le lezioni del passato la persona sapiente non è stolta come i modernisti cioè ma capite io veramente certe cose forse sarò strano ma non le concepisco non le riesco a capire ma come si fa ad essere così stupidi ecco perché la sapienza è il contrario perché la sapienza è il contrario della stupidità ma come può immaginare cioè come può una persona che abbia un minimo di senno pensare che sia una cosa buona scrollarsi di dosso quello che generazioni di saggi di sapienti molto spesso di santi hanno compreso trasmesso e vissuto cioè io credo veramente che la che la che la prosopopea l'arroganza proprio la iubris direbbero i greci dell'uomo dell'uomo post contemporaneo dell'uomo di oggi ma è qualche cosa di inqualificabile di inqualificabile ma che si credono di essere questi qua amici ci rendiamo conto che stiamo vivendo in un tempo proprio di follia capite perché il contrario della sapienza è la stoltezza ma la stoltezza portata all'estremo produce l'irragionevolezza estrema che rasenta la follia clinica anche questo ho detto durante l'omiglia di oggi ma pensiamo soltanto a una cosa riprendo una cosa ma come si fa a legalizzare in tutto il mondo il delitto di aborto come si fa se tu ammazzi una persona a juxta codice penale italiano almeno così era quando l'ho studiato io ti prendi una botta di pena edittale reclusione non inferiore a 26 anni me lo ricordo ma in un reato ci sono le circostanze aggravanti cioè la condizione della vittima cioè se tu uccidi per esempio un handicappato è molto più grave che se uccidi una persona che non è handicappata e se un padre uccide un figlio si beccherà una condanna più grande perché il padre non deve uccidere il figlio io non ho capito cioè una madre uccide un figlio che è il gesto più più da carogna assoluta che tu puoi fare perché uccidi uno che non si può difendere e con l'aggravante che è ucciso da chi ha il compito naturale di proteggerlo di custodirlo io non dico che si debbano si debbano condannare queste pure donne che sono cadute purtroppo il diavolo ti fa fa prima i guai e poi per carità non sto parlando del peccatore sto parlando del peccato però e tu che fai nel 1978 ti alzi la mattina e ti metti in testa no ma questo non c'è niente di male ah tanto quello è un grumo di cellule ah tanto fino al terzo mese non c'è niente poi però dal 92esimo giorno ma il guai è che questi si spacciano come grandi come grandi evoluti come grandi intelligenti come gente che ha capito tutto della vita cioè quindi gente che è uscito fuori dall'oscurantismo medievale e quindi che ragiona 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 cioè che l'aborto sia un omicidio pluriaggravato perché aggravato dalla condizione di chi lo commette che è il genitore dalla debolezza fino all'essere inermi l'impossibilità di difendersi di chi l'affida più la carognata che è anche una cosa settica capito perché se tu se una mamma prendesse una pistola e dovesse tirare una revolverata sulla tempia di un bambino cioè almeno deve vedersi uno spettacolo che dopo la traumatizza a vita perché deve vedersi il sangue che sprizza d'accordo scusatemi se sono così un po' un po' crudo ah invece di fatta l'anestesia esco e che problema c'è siamo una generazione di pazzi furiosi ma proprio da 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 manicomio istantaneo da ricovero le cose passate e intravede le future le persone sapienti non fanno gli indovini o i carismatici o i profeti no però sulla base appunto di questa sapienza e quindi della capacità di analisi di discernimento di comparazione cosa dice Gesù nel Vangelo no scusate ma se voi vedete che la sera c'è una certa conformazione climatica direte che poi domani piove da dove viene questa cosa dall'osservazione non è che tu sei un indovino guardi i fenomeni vedi che a una certa cosa corrisponde a un certo effetto e che questo accade sempre quindi se rivedi la cosa non è difficile capire che c'è sarà quell'effetto in questo senso no e poi nelle manifestazioni un po' forti la sapienza pronostica segni portenti come anche le vicende dei tempi e delle epoche e poi vedete qui il grande Salomone ho dunque deciso di prendere la compagnia della mia vita ho deciso quindi ho deciso di sposarla di meglio a traduzione del 2008 ho deciso di dividere con lei la mia vita vedete siumbi osin vivere insieme vivere insieme vivere insieme vivere insieme bios in greco abbiamo avuto biologia significa vita no vivere con anziché andare a convivere a peccare mortalmente perché le convivenze sono peccati mortali vantene a convivere con la sapienza vedi come stai bene mi sarà consigliera nel bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore la sapienza te lo dà il conforto nella preoccupazione e nel dolore perché ti consentirà di viverlo santamente di esserne illuminato di comprendere che se c'è una cosa Dio la sta permettendone uscirà fuori una cosa sicuramente buona se stai vivendo quel male è perché Dio ti chiede di viverlo perché altrimenti avrebbe impedito che ti colpisse eccetera 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 oh e poi ci andiamo a gustare al capitolo nono abbiamo quasi finito questa è senza commento questa qui dai questa è senza commento Dio dei padri e Signore di misericordia che tutto è creato con la tua parola che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto eccolo qui io invito veramente a prendere ogni tanto sto capitolo 9 per pregarci dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli perché io sono tuo servo anche qui non provo tuo servo qui grazie a Dio il 2008 traduce meglio in greco c'è dulos peccato però che vedete le contraddizioni no adesso se vado a prendere la risposta di Maria Santissima all'angelo e mica mica sta scritto io sono la tua schiava e no c'è sempre ecco la serva del Signore che serva non si può perché Dulos non è servo è figlio della tua ancella allora qui c'è paes paedisches e qui traduce invece meglio vedete il 74 perché il 2008 traduce io sono tua schiava figlio della tua schiava no perché uno è Dulos e l'altro è paedisches paedisches è l'ancella allora io sono uomo debole di vita breve lo sappiamo sì che siamo debole di vita breve tutti quanti mi siamo circondati da da debolezze e da misere ma che ci crediamo di essere posso fare qualche esempio un pochino feriale no gli uomini che si pensano ad essi Padre Eterni già semplicemente le come dire le necessità legate alla nostra vita biologica se c'è un'urgenza di dover andare in bagno che fai tu che ti pensi di essere grande superman ci diana per forza prova a non andarci vuoi dire che succede che bella figura eh bello no stai nell'impossibilità di darti una lavata per un paio di giorni bella figura prova così chi passa vicino dirà ma che zozzone questo non si lava che mandi cattivi odori cioè la nostra debolezza proprio intrinseca cioè anche qui facciamo funzionare un pochino il cervelletto ce lo dice tutto di noi stessi e il bisogno di mangiare morire alla quaresima facciamo qualche qualche digiuno benissimo ma non è che noi possiamo stare a digiuno assoluto vita natural durante e non per gola perché moriamo a meno che non ci sia un miracolo che ci sono alcuni santi alcuni mistici che Gesù ha fatto vivere di Eucharistia ma ci vuole un miracolo è il dormire stasera è andata benino stasera ma ogni tanto mi scrivono nei commenti dice Don Leonardo ma è stanco cioè se vede che mente sta parlando sono addormento e ogni tanto succede non so mica d'acciaio c'era un mio amico in seminario romano romano di Roma romanacce diceva io non so mica da linoleum diceva così diceva siamo deboli la nostra vita è breve dopo una certa età uno se ne comincia ad accorgere corre e soprattutto siamo incapaci di comprendere la giustizia senza la sapienza anche il più perfetto tra gli uomini è stimato un nulla dice il versetto 6 e poi Salomone dice vedi tu mi hai prescelto come re del tuo popolo tu ricevi dei tuoi figli mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte un altare sulla tua dimora un'imitazione della tenda santa che ti riprodurrà fin dal principio no? questo è un piccolo inciso e poi riprende con te la sapienza che conosce le tue opere che era presente quando creava il mondo vedete come la sapienza è un'allusione diretta al nostro Signore Gesù Cristo no? e c'è anche qualche riferimento un po' meno diretto indiretto ma alla sede della sapienza che è Maria Santissima essa conosce le cose gradite ai tuoi occhi e ciò che conforme ai tuoi segreti quindi inviala dai ceri santi mandala dal tuo trono glorioso perché mi assista mi affianca la mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito chiediamoglielo al Signore e se infatti tutto conosce e tutto comprende mi guiderà prudentemente nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria poi c'è un inciso ancora che salto un attimo vedete questo è un altro proprio capolavoro quale uomo può conoscere il volere di Dio vediamo ma chi può immaginare che cosa vuole il Signore qui non si parla della volontà di Dio in generale la conosciamo sono dieci comandamenti ma che cosa vuole Dio da me adesso in questo frangente della mia vita le piccole scelte di ogni giorno oppure anche le grandi scelte capite ma chi può immaginare cosa vuole il Signore i nostri ragionamenti di noi mortali sono timidi sono incerte le nostre riflessioni perché bellissima perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima ma guardate che bello è la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri altra cosa a stento ci raffiguriamo le cose terrestri scopriamo con fatica quella portata di mano ma chi può rintracciare le cose del cielo quando a volte mi fanno delle domande su come ho fatto il paradiso dico ma figlio mio ma ringrazio a Dio che riesca a cucchiare quattro cose se riesco a chiudere altra perché c'è un pochetto di fede ma che ne so come ho fatto il paradiso sappiamo qualche piccola cosa è chi ha conosciuto il tuo pensiero se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto vedete che bello cioè io quando sento queste cose con il ragionamento di mortali sono timidi sono incerte le nostre riflessioni chi può immaginare cosa vuole il signore cioè capite come dobbiamo stare sempre bassi 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 no non credersi di essere nessuno a me qualcuno mi dice che sono umile io non lo sono umile per favore nessuno pensi che stai cioè si tratta semplicemente in alcune circostanze di avere un minimo di buonsenso siamo siamo dei poveri mortali dei poveri uomini se ci raccabeziamo qualche cosa di buono meno per quanto mi riguarda ma io devo stare a fare magnificata per tutta l'eternità perché non sono robe che vengono fuori da me e sono molto stupito che ci vengano fuori cioè sentiamole queste cose facciamo le nostre e poi chiudiamo ce la facciamo sì ho detto che questa dura dura un'ora quindi santi e benedetti che arriva fino alla fine perché vuol dire che stanno messi bene col desiderio di istruzione sperando che aiuti un pochino andiamo al capitolo 13 l'ultima botta di super sapienza oh ho il bagliato qua allora attenzione davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano l'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è non riconobbero l'artefice considerando l'uomo attenzione che gli stupidi gli stupidi sapete come si dice stupidi in greco si dice mataios che letteralmente vuol dire vuoti o inutili vani cioè che campi a fa dentro dentro la testa non c'è sta niente sei vuoto sei chi dice che Dio non esiste non è ateo è stupido dice la scrittura ma chi l'ha fatta tutte quante le cose che vedi stupido proprio stupido mataioi che c'hai dentro il cervello ripeto sempre le stesse cose ho raccontato infinite volte che quando studiavo i corsi di filosofia gregoriana c'era un professore bravissimo e ci raccontò la storia purtroppo sta in un libro di filosofia della scienza che non mi ricordo come si chiama di uno scienziato ateo che aveva fatto un calcolo delle probabilità circa la possibilità che l'universo per quanto noi conosciamo che ben poco venisse a caso stupidi dice ci sono tante possibilità che l'universo sia venuto a caso quante quelle che tu metti un gatto impazzito sul pianoforte e ti fanno nonna di beethoven lo scienziato si professava ateo però diceva io sono ateo però qualche intelligenza suprema ci deve stare per forza perché se io non la riconosco è un insulto alla mia intelligenza non è un insulto alla fede io la fede non ce l'ho poi altri idioti questi sono gli antichi pagani chi adorava il fuoco versetto 2 il fuoco il vento l'aria la volta stellata l'acqua impetuosa o i luminali del cielo consideravano come dei reggitori del mondo ma può essere che il sole è il tuo dio ma il sole non parla no ma se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei ma pensino a quanto è superiore il loro signore perché li ha creati lo stesso autore della bellezza stupidi che non sono altri ma quindi non in senso offensivo ma se sono colpiti dalla loro potenza e attività ma pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati capite che questo è un problema l'intelligenza non è un problema di fede di fatti ecco qui il dogma della Dei Filius dalla grandezza e bellezza delle creature si conosce per analogia l'autore la Dei Filius ha stabilito essere verità rivelata da Dio che l'uomo con l'ausilio della sua intelligenza può arrivare a conoscere con certezza che esiste che esiste un Dio non che esiste non che la Santissima Trinità ma che esiste un Dio perché è un problema di testa non è un problema di fede e qui dice vabbè forse per questo è alleggero l'improvero perché forse si ingannano nella ricerca di Dio nel volere trovarlo occupandosi delle sue opere con più le indagini ma si lasciano sedure dall'apparenza perché le cose sono tanto belle però neppure costoro sono scusabili e questo vale per i cosiddetti sedicenti scienziati di oggi perché se tanto poterono sapere da scudere l'universo beh come mai non hanno trovato più presto il padrone fermiamoci qui perché il tempo è quasi finito ma il libro della sapienza vi consiglio di leggerlo alla grande proprio perché tanto è tutto avete visto meravigliosissimamente comprensibile facile anche da meritare è anche un ottimo testo per esercitarsi a meditare da soli perché è molto chiaro quindi si tratta semplicemente di fermarsi su alcune espressioni io ci sono andate un pochino al volo queste sono sempre catechesi piccoline insomma un po' di vulgarine quindi che vogliono semplicemente dare un piccolo aiuto ma non sono esaustive ecco però ecco buona lettura del libro della sapienza a tutti speriamo che questo invito alla lettura chiamiamolo così queste due conversazioni che ci siamo fatti abbia fatto nascere un po' di desiderio di anzitutto di avere la sapienza e poi magari anche di andare a riprendere qualche passaggio di questo bellissimo libro laudentur jesus et maria e dio vi benedica e la santa vergine ipotegga e la santa vergine e la santa vergine la santa vergine